Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Contatori del Tempo, un episodio in esterna. Allora ragazzi eccoci qua, siamo a Viareggio, anche se c'è il Carnevale, ma noi veniamo ugualmente perché ci garba. Andiamo a trovare l'amico Giacomo della gioielleria Pasquali Domenici di Viareggio, poi c'è anche l'amico Francesco Caramai che mi ha dato appuntamento perché purtroppo Francesco ci tiene tanto, a me mi vuole far vedere tutte le sue modifiche che ha fatto all'orologio e vedremo un pochino cosa ci porta. È sempre un piacere poi vedere Francesco, quindi noi non ci preoccupiamo. Abbiamo anche l'amico Piero, purtroppo dobbiamo portarlo con noi ogni tanto perché deve uscire di casa, gli dobbiamo fare vedere un po' d'aria. Eccolo qua, amico Piero, e che orologio indossi Piero oggi? Allora, io te lo faccio vedere, però non ti arrabbi. No, vai. Allora, aspetta. È un ricordo degli anni Ottanta, mi ricorda, è una faccina un po' strana, mi ricorda il mio primo computer. Che minchia di orologio hai preso oggi, è impossibile. Di Uno Milano Olivetti, dedicato all'Olivetti, computer degli anni Ottanta. Di Uno Milano. Di Uno Milano, sì. Cioè, ma io non ti parlo più. Lo sapevo, lo sapevo. Cioè, ma che cazzate hai fatto? Lo sapevo che me lo devi vedere. Questa cosa qua è incredibile. L'ho tenuto nascosto tutto il viaggio, però... Che vomitevole orologio che hai preso. Io invece ho il mio Longin Legend Diver, è vomitevole. Perché vomitevole? Ma mamma mia, non si capisce cos'è. Poi anche la marca di Uno Milano... È a batteria. Ma che scoppiassero tutti. Ma perché ridi? Perché lo sapevo che facevi questo. Il mio invece è bellissimo Longin Legend Diver con il suo bracciale a chicchi di riso e niente di che. C'è poco da fare, c'è poco da fare. Andiamo, Piero, cosa dici? Ti ho sconvolto? Abbastanza. Questa cosa qua non mi garbo. Eh, andiamo. Io ti sconvolgo sempre. Piove, Piove, Piero, piove. Aspetta che ho perso l'ombrello. Piove. Ma mi metto l'ombrello, però. Io ho l'ombrello. L'amico Davide no. Lui fa il figo. Vediamo il caffè. C'è anche l'amico Francesco. Eccolo qua. Ciao, Francesco. Oggi piove, eh? Piove, devi chiudere l'ombrello, se no ti sta male. Grandissimo, eh? L'amico Francesco, eccolo qua, questo giubbottino dell'Aeronautica Militare, perché lui non si può, non si può smentire, bravo. È proprio bello sto qua. E questo, questo me l'hanno regalato lungo, eh? Mamma mia. Prendiamo il caffè? Io l'ho appena preso. Va bene, noi dobbiamo prenderlo. Lei fuma. Yes. Cosa vuoi, Francesco? Io ho prendo il caffè in ureo. Non sono fermato. L'ho fatto un fritto. L'ho fatto un caffè bravo, pure il tanto. Caffè? Vabbè, dai, pago io, Piero, eh, tanto. Anche mangiato, oggi. Eh, oggi mi tocca. Ma perciò vado stesso in bagno. Eh, eh. A me mi sono messo in testa dove andare in bagno con la scusa di non pagare, che paga vi te. Ciao, ciao. Alla prossima. Abbiamo beccato anche l'amico Giacomo qua al bar, perché lui è fisso qua. E poi mi riprendono. Quello che può fare per non lavorare lo fa. Apriti sesamo. Sì. Sì. Allora ragazzi, eccoci qua simpaticamente nella baracchetta del buon Giacomo, no? La gioielleria Pasquale Domenici di Viareggio. Abbiamo come ospite anche Francesco Calamai, che avete visto fuori, perché l'abbiamo incontrato fuori. Quindi, caso fortuito, giuro, caso fortuito, eh. E niente, perché? Perché il buon Francesco, dopo la mia recensione del G50, nella quale avanzavo alcuni dubbi sulla rotazione della bug interna, no? Sì, e sulla corona. E sulla corona ha provveduto a fare delle modifiche. Cioè, non è che è che mi ha mandato la lettera dell'avvocato, come fanno certi, no? No. Ha fatto il suo commentino sotto al video, prendendo atto della situazione, spiegando anche certe cose che magari sono interne loro, la spiegate. E poi ha lavorato. È già un po' di tempo che infatti non si sente più Francesco che esce fuori con gli orologi. Sì, va bene, l'abbiamo visto alle fiere, perché partecipa alle fiere di settore. E ci spiegherà adesso tutte le modifiche che ha voluto apportare al G50, no? Qui c'è anche una piccola novità. Questo è lo sbozzo della cassa del nuovo GMT. Il nuovo GMT? La fusione, viene fatta la fusione. Questo è il cambiato, prima facevo dei tondelli interi. Adesso ho fatto fare uno stampo che venga già uno sbozzo, in maniera che il cassista poi possa togliere meno materiale. Come dicono loro, grattare meno ferro. Quindi per sbozzo cosa si intende? Perché io non capisco cosa... Le turbine sono state fuse, ho fatto fare questi stampi e questa colata della fusione delle turbine va negli... In questa, diciamo, sono 12 ogni colata, in queste vengono fuori le stampe e vengono fuori questa cosa. Cioè questa è una cassa che poi va sgrossata tutta per arrivare a un prodotto finito. Praticamente la forma di questo GMT sarà questa, con queste... Particolare come forma, eh? E quindi questo qua è lo spazio per la ghiera. Sì, ma andrà via tanto materiale. È da togliere tanto, tanto materiale. Ma se guardi... Perché gli sarà un 39 mm il GMT. Se guardi lo spazio dedicato al terminale del bracciale è molto, molto ridotto. Sì, sì. Perché anche le ansie della cassa verranno limate, verranno allargate, diventerà tutto più snello. E questo qua quindi praticamente era il nuovo GMT, ora l'abbiamo svelato. Ci sarà un GMT nella... L'anno prossimo esco con il GMT. Si sa già che calibro ci sarà? Il Sellita 330. 330. Questo è il bozzo, lo aspettiamo, la farfalla noi aspettiamo. Ascolta, questo qua che acciaio è... Non è quello, non hai utilizzato... Questo è stato fatto con le turbine dell'elicottero NH500 della Guardia dei Finanza. Bravo, hai fatto bene a fondere la Guardia dei Finanza. No, sono carino, sono persone deliziose, a me e i miei filosi sono persone deliziose, ma tutti. E poi invece per me la farò col tornado, quello dove il turbine ha il tornado. Ok, hai detto l'MH? 500. Quello piccolino? Sì, quello giallo. Sì, che anche qui a Via Reggio avete visto del servizio a rinunavale. Sì, sì, sì. Ebbene, abbiamo così scoperto la prima novità del buon Francesco con il GMT. Si chiede, GMT, la prima uscita andranno in dotazione alla Guardia di Finanza? Dotazione? No, dotazione. La Guardia di Finanza mi ha ordinato un certo numero. Siccome l'anno prossimo farà 250 anni della Forza Armata, mi ha ordinato un certo numero di orologi che utilizzeranno loro per gli scopi che desiderano loro fare. Ok, perfetto. Da qui nascerà poi una versione civile? Esco anche io subito a ruota, esco col mio. Ok. Il quadrante sarà diverso, il cinturino diverso, insomma, delle belle differenze. Che prestano le nostre vetrine anche la versione per la vendita. Esatto. Ok, ottimo. Per quello che hai detto te, caro Davide, e poi io, tanto lo sanno tutti, io ho avuto lo scorso anno, a giugno, un problema sulle casse dell'MK4 che non mi sono venute bene. Ho una certa età e la vita mi ha insegnato che quando c'è un problema non puoi dare solo la colpa agli altri. Forse devi anche porre la domanda dove hai sbagliato te. Per cui cosa feci? Ho fermato la produzione, mi sono seduto, fortunatamente ho molti contatti anche in Svizzera, ho fatto un bel giro in Svizzera da aziende che producono storiche, che producono gli orologi. E gli ho chiesto un momentino come sono organizzate loro. Io ero organizzato, che ho il mio disegno, diciamo, commerciale, poi il cassista mi faceva l'ingegnerizzazione della cassa. Le componenti relative alla cassa, pulsanti, corone e compagnia, le prende lui, le prendeva lui, mi dava la cassa finita con le componenti montate. Se vai da aziende strutturate, ci hanno i vari team, la parte marketing, la parte tecnica e la parte anche manutenzione. Quando fanno un nuovo progetto li mettono tutti quanti assieme. Allora, tutti i cassisti che lavorano per conto terzi, l'ingegnerizzazione della cassa nel loro tecnico, che ti ingegnerizza la cassa internamente. Il mio errore è stato non capire, al tempo dovuto, che il tecnico di un cassista è dipendente del cassista, non è il mio dipendente. Per cui nell'ingegnerizzazione della cassa, alla fine, è un compromesso tra le mie esigenze e le esigenze giuste del cassista. Lo traduco in termini proprio grezzi, gretti, no? No, non troppo, grezzi, a favore, Davide, educati. Eccoli lì che stanno ragionando su come farsi, dicono, ma sì, ma va bene così, tanto il cliente andrà bene anche così. Invece a te non ti andrebbe bene, se tu fossi presente gli diresti no. No, io non ho quell'esperienza. Eh, questo è il mio errore, non ho questa esperienza. Allora che ho detto? Mi sono andato a cercare un ingegnere specializzato nella realizzazione delle casse, lo pago a progetto, gli ho fatto ringegnerizzare tutta la cassa. L'ho tenuto presso a poco, diciamo, quattro giorni o quattro mattine o quattro pomeriggi assieme al mio tecnico pensando a tutti i problemi che in questi dieci anni o quindici anni di lavoro che abbiamo avuto. E da lì siamo partiti, anche pensando a quello che te hai detto correttamente. Allora, primo fatto. Ora, provano, Davide. Sono quattro orologi di quest'ultima produzione, tutti uno diverso dall'altro. Prova a girare la bacca. Ah, intanto possiamo dire che gli orologi esteticamente sono perfettamente identici al modello precedente. Ok. Vabbè, sono tutti di nuova produzione queste? Sì. Quindi non è che mi stai fregandomi ce ne hai messo uno di quelli vecchi? No. Allora, in passato si sentiva un po' il trin-trin, si sentiva. Adesso? Adesso è tutto liscio. Prova anche l'altro, perché sennò poi te giustamente hai detto uno senti il trin-trin e uno no. No, c'era un altro piccolo difetto, se lo vogliamo chiamare. Non solo si sentiva un piccolo attrito ruotando la corona della baga interna, ma soprattutto la lunetta aveva un leggero gioco che, battendo in cassa, dava quel piccolo rumore metallico di sottofondo. Prova a sentire se adesso senti il rumorino. Quale rumore? Allora, prova a muovere un pochino, a soppalzare. Ah, io pensavo fosse il rumore del sellita. Sì, lo fa questo. No, fa il rumore del sellita, non senti la baga che si alza. No, giustamente Giacomo. Allora, che succedeva? Questa baga tendeva, per lasciarla, diciamo, si lasciava l'asca o lente, perché se no si inchioccava. Per cui, se ci avevo, fai conto, non mezzo centesimo, ma cinque centesimi di altezza tra la lunetta e la baga, questa si muoveva e potevi sentire questo ticchettio, non il movimento del sellita. Questo è il primo fatto. Allora, come abbiamo, riguardando, di solito, allora, la baga lavora sulla cassa e la parte superiore è sulla lunetta. Bene. Le lunette, di solito, per motivo anche economico di costruzione della cassa e oppure di semplicità nella costruzione della cassa, vengono messe a pressione. Giacomo, lui è più esperienza di me. Allora, quando la metti a pressione, ti puoi avere la guarnizione che sia mezzo centesimo una rispetto all'altra, un po' diversa. Metti che quando lo metti, non sulla macchina, sull'attrezzo per mettere la lunetta a pressione, non è perfettamente planeare, ma ti rimane un po' così. Metti che fai più pressione o meno pressione, a quel punto hai delle differenze, perché lavorando a contatto anche sopra hai delle differenze tra l'orologio e l'orologio. Noi che abbiamo fatto? Queste lunette sono avvitate. Avvitate. In maniera tale che arrivi a battuta e l'altezza che gli abbiamo lasciato di gioco per la guarnizione è standard, è certa. Ma nella maggior parte degli orologi sono a pressione. A pressione. E perché non si usa mai a vita? Perché costa di più? È una complicazione costruttiva. Sì, vai a complicarti la vita praticamente. Vai e è bravo. Sì, sì che la prima grande modifica ovviamente della nuova ingegnerizzazione delle casse è stata proprio il poter avere la lunetta abitata sulla cassa. Questo poi traduciamolo in poche parole. consiste nel creare una filettatura interna alla cassa e sulla lunetta. Dove ovviamente va a lavorare la filettatura della lunetta maschio-femmina e va a sigillare il tutto. Poi l'altro piccolo problemino che si aveva su questa corona che gira la bagga ti vedi che c'è un leggero piccolo qui stiamo parlando di centesimi piccolo svaso sulla cassa perché se no ti tocca. Ora avevo delle volte questa corona mi andava a toccare leggermente la cassa per cui quel cric e cric lo potevi sentire anche su questa cosa. E ora con questa produzione abbiamo migliorato questa cassa. che praticamente hai creato una piccola svasatura nella cassa per dare ovviamente più spazio di lavoro alla corona della bagga. Che però è invisibile. Perché non ti danno. L'altra cosa in questi... Le stiamo semplificando molto. Vi assicuro che a livello ingegneristico ma soprattutto di lavorazione poi sono piccoli dettagli che creano differenze enormi sul prodotto finale. Mi fa piacere questa giornata questa chiacchierata tra amici perché so che Francesco è un buon professionista oltre che un amico è un buon professionista molto meticoloso. Diciamo che a livello finale della vendita tutte queste migliorie avrebbero fatto poca differenza ma però fanno diciamo un mare di differenza a livello qualitativo di prodotto. Del cuore. Sì. Quando fai qualcosa sono persone anche molto attive vedi i piloti militari si prendono delle belle accelerazioni volando. Che succede? Mi è capitato in cose tollerabili fai conto che sia capitato al 2% come difetti però se l'hai notato devi cercare anche se tollerabile economicamente però devi cercare di migliorarlo. il movimento nella cassa è tenuto da una brida. Io avevo già le bride fatte con tre viti sulla cassa e una vite sul movimento. Quando ho parlato in Svizzera e poi da Ugolini gli ho fatto aprire un po' di orologi di quelli di marche serie mi sono accorto che per esempio marche serie su movimenti cronografi automatici pesi hanno nel movimento due fori perché la bride lavora con due viti sul movimento per evitare che si rompino le testa a me si rompeva la testa non la bride la testa della vite della bride del movimento ovviamente io non è che posso chiedere a Sellita di farmi due fori sul movimento insomma per le quantità che faccio io allora cosa abbiamo fatto siccome questo orologio viene montato dall'alto verso il basso abbiamo fatto due orecchiette sulla cassa proprio la cassa fatta con queste due orecchiette dove viene appoggiato il movimento sopra e ho fatto fare delle viti speciali che si avvita il movimento da sotto queste orecchiette per cui l'accelerazione positiva cioè testa piedi si scarica sulla cassa non si scarica più sulla vite ok bene altre cose tanta roba no basta mettersi lì passare del tempo capire e vedere cosa ci è successivo ma ti lanciamo un'altra sfida al momento che comunque sia abbiamo una lunetta avvitata sì sicché ovviamente abbiamo un accesso semplificato anche dal lato superiore dell'orologio a questo punto potremmo eliminare anche il fondello il fondello con quattro viti perdonami è bellissimo molto bello ma potremmo creare un monoblocco andando a risparmiare spessore allora però con il materiale delle turbine non te lo posso fare perché nella turbina io ho anche lo zingo e se ti metto lo zingo in contatto con la pelle a me non mi succede nulla a Davide penso non mi succeda nulla forse a un signore gli può dare dell'irritazione alla pelle non te lo so dire la legge in ogni caso è precisa te non puoi avere lo zingo a contatto con la pelle ok abbiamo imparato un'altra cosa molto molto interessante con i datuaggi è la solita per cui non la posso fare il monoblocco come vedete ogni scelta che viene fatta a partire dai materiali e dalle singole componentistiche poi comporta vincoli nella costruzione nella produzione sicché bisogna poi creare soluzioni e pensare a soluzioni nuove per poter arrivare all'orologio finito poi in tutti questi anni se io ho avuto diciamo dieci possono essere cento segni per fare un termine di paragone dieci crono che mi sono rientrati indietro per rotture due riguardano rotture del movimento ma otto mi riguardavano rotture relative le componenti della cassa ok cioè il pulsante che ti è rimasto bloccato la corona che ti è rimasta in mano sono cretinate però ti ritorna l'orologio da rimettere a posto allora e che ci ho perso onestamente sono molto orgoglioso di questa cosa eh perché cosa ho detto prima questo ingegnere ho detto a questo punto mi ridisegni tutte le componenti mi dai le specifiche con ugolini sono messi d'accordo su che specifiche chiedere nelle componenti sono andato a cercarmi il fornitore diretto di queste componenti e mi sono fatto fare le componenti come volevo io che dal lato estetico te non noti differenze rispetto a prima queste guarda te l'ho portata alcune quelle lì sono quelle nuove sono quelle nuove però bisogna di un macro per vedere c'è un foglio bianco che forse si vede meglio non lo so ma vuoi bianco no sul nero si vede bene ecco io mi alzo cerca di fare un macro aspetta è che vado via col microfono senza staccare vedi che è lucidato tutto internamente guarda per esempio questo qui vedi che l'interno è lucido guarda guarda questo questa non guardare la corona vedi il tubicino che è lucido lo stelo guarda questo tubicino dei pulsanti che vedi che è avvitato allora questi sono il tubo pulsante molto spesso i tubi pulsanti vengono messi a pressione con una guarnizione ecco questi sono tutti avvitati come la corona è avvitata diciamo il tubo a pressione funziona lo stesso però perdonami si diciamo è andato a levare la porosità del metallo diciamo che poteva fare da freno da grip al pulsante ho fatto un orologio splendido facendo che questo è un orologio perfetto per cui te non lo porti mai a riparare da Giacomo o da me per 30 anni se c'è un pulsante cioè questo tubicino a pressione che la guarnizione l'impermeabilità me la dà la guarnizione dopo 30 anni la guarnizione si è seccata vai a farci il bagno in piscina non voglio dire il bagno ti può entrare l'acqua dentro se ce l'hai avvitato è qua anche se la guarnizione è diventata rigida non dovrebbe entrare a scusa ma con tutte queste modifiche qua l'impermeabilità il valore è aumentato oppure ti mantieni sempre allora continuo a dichiararne 5 e Ugolini mi fa le teste a 10 prima erano a 8 vero? a 7 prima erano a 7 cioè l'MC72 che ho io nella specifica ho visto 5 però ho testato a 7 quindi arrivare a 10 non è che ci vuole secondo me anche 10 reggi questi qui sono testati ne dichiaro 5 sempre io faccio orologi aeronautici punto e basta non faccio orologi scuba o d'altre cose sono il waterproof faccio il bagno faccio la doccia ma ecco rimango fedele al mio DNA tutto sommato l'altra cosa che ti avevi detto era la corona leggermente lasca prendine uno di questi orologi prendo questo quale bracciale perché quel bracciale non l'ho mai preso a mano apri la corona tira tutto fuori si muove com'è adesso? si muove nella normalità è abbastanza rigido sì sì cioè ne trovi non tanti orologi che hanno questa rigidità su una corona avvitata no 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 va benissimo com'è risolto il problema? con queste componenti ma hai abbiamo cambiato le dimensioni hai rimpicciolito il foro del tubo corona? abbiamo ingrandito ah ok e abbiamo dato maggiore robustezza facendolo ridisegnare hai robustito la tige della corona esatto esatto questo è un po' è praticamente tutto questo giochetto qua di rinnovamento quanto va a incidere? circa 55 euro a cassa in più 55 euro tutto sto giochino qua stiamo parlando di costi vivi di produzione costi vivi di produzione che poi logicamente sono passaggi che quando arrivano ovviamente al prezzo finale si gonfiano anche un pochino per purtroppo sapete che c'è l'IVA ci sono poi dei costi aggiunti che non dipendono da Francesco il bracciale qua che te l'ha fatto? me l'ha fatto io lo compro lo dico tranquillamente me lo fa l'import time e lo fa fare in Cina ok 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 giusto sul mio disegno giusto perché quello che ho lavorato tanto queste casse sono questi sono orologi importanti tutto cioè massicci se facevo l'attacco sai da pieno come vanno di moda compagnia bella tutto l'ho provato diventava un mattone vedi che questo qui l'ho fatto tagliare e l'ho fatto abbassare in maniera tale che ti dà io allora ho fatto questa prova mi piaceva per essere sicuro sai cosa ho fatto sono andato in un bel rivenditore o duelleria della Patec e ho guardato i loro cinturini tipo e anche loro fanno vedere un pezzo di cassa per cui se lo fa vedere la Patec fai tranquillo che non si sbaglia giusto per spiegare però per fare in questa maniera l'ho dovuto fare a quei finali vuoti eh sì perché se no non riesce a fare questo taglio ho capito cioè il taglio sopra te lo puoi fare se poi gli abbassi la lamierina se lo fai da pieno è inutile fai il taglio lo vedi lo stesso sì 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 giusto per spiegare a casa perché a volte si usano parole e poi vengono magari fraintese interpretate male interpretate male occhio perché far fare un bracciale in Cina non vuol dire che è un prodotto di bassa qualità specifichiamo che in Cina si danno delle direttive di come si vuole il lavoro si può fare un ottimo prodotto o un prodotto economico le aziende cinesi possono fare tutto quello che vogliono apriamo un'altra parentesi perché non è che Francesco è andato in Cina per risparmiare o chissà cosa tante aziende blasonate del settore rogero fanno fare i bracciali o componentistiche dei bracciali maglie e chiusure in Cina tante aziende svizzere neanche italiane svizzere sicché non prendiamo la parola bracciale fatto in Cina come un difetto o una bassa qualità di prodotto ti ringrazio ti voglio dire che io prima di farlo fare da tramite import time in Cina sul mio disegno perché importante poi anche quello per il proprio disegno era andato da questa bellissima azienda svizzera che fa cinturini in acciaio secondo me tra le migliori che c'è fortunatamente il tecnico parlava italiano per cui ho capito bene perché se parlavano in francese forse qualcosa potevo capire male allora a parte che mi ha detto Cramay non lo faccia perché se lei vuole fare un cinturino in acciaio fatto veramente bene intanto quando progetta la cassa venga qui si progetta assieme primo fatto secondo fatto per 300 pezzi per cui per me un numero importante per la mia produzione mi ha chiesto non 10.000 franchi per di attrezzatura ma vicino e circa 400 franchi a cinturino io non posso venire da te Giacomo e dirti l'orologio costa 3.000 però poi con il cinturino in acciaio me ne dai altri 2.000 giusto? si guarda andiamo al bar ti offro il pranzo si no no è corretto ovviamente ci vuole una proporzione cioè ci vuole una proporzione su quello che si venda ecco però cinturino fatto super bene ok no ecco questa è una cosa interessante perché come avete potuto vedere non è che dici voglio l'orologio nasce con la pelle domani voglio aggiungere un bracciale vado da un produttore di bracciali gli do la mia cassa e loro ci producono un bracciale no è una cosa che va pensata prima va ingegnerizzata prima addirittura ancora prima della cassa prima si progetta il bracciale il bracciale potrebbe anche modificare alcune parti della cassa pensate quanto è complicato fare un orologio fatto bene e vogliamo spiegare anche a chi è a casa che ovviamente non è pratico del settore perché da fuori dice c'è un marchio nuovo ho fatto un orologio ci sono mille modi di fare un orologio poi magari francesco ci può spiegare anche meglio l'approccio allora oggi diciamo di base sono i soldi quelli sono a prescindere bisogna mettere grano prima ancora di partire e poi ci sono diversi modi possiamo fare un piccolo schizzo di un orologio che sono un po' le linee guida di come noi vorremmo che il risultato finale estetico ovviamente del prodotto poi possiamo andare da una buona casa produttrice dargli il disegnino loro lo correggono lo ingegnerizzano e fanno il prodotto finito chiave in mano sforna orologi addirittura già tutti montati già tutti finiti non è anche in scatolati anche in scatolati ovviamente questo è fare un orologio magari molto carino magari anche a buon prezzo non è detto che venga fuori un prodotto diciamo fatto bene in tutti gli aspetti perché poi il produttore ovviamente cercherà come è successo ovviamente per le casse e le componentistiche che ci diceva prima Francesco di adattare un pochino tutto il sistema per avere un prodotto e rientrare anche in determinati costi Francesco ovviamente ha scelto la strada più difficile l'ha fatto ovviamente col tempo l'ha fatto incontrando i problemi che si sono creati prima si parlava di un ritorno di 10 orologi a chi si è rotte parti della meccanica allora vorrei precisare che dalla marca più economica alla marca più costosa i ritorni ci sono sono percentuali ovviamente di ritorno non sempre sono dovuti ovviamente a difetti di produzione possono essere magari dovuti a difetti di assemblaggio magari una vita è stata tirata male una vita è stata tirata troppo in fase in fase di assemblaggio la sfera non ha gli spessori giusti sicché rallenta il movimento ci possono crearsi mille casistiche spesso ovviamente i problemi derivano dalla persona che lo porta ricordiamo che sono microparti meccaniche che lavorano in sincronia con dei piccoli micron di tolleranze uno dall'altro sicché bastano piccoli urti piccoli contraccolpi che possono sfasare tutto come dicevo prima Francesco ha scelto la strada più difficile perché ha deciso di andare a cercare la miglior soluzione per ogni parte dell'orologio ovviamente tanto di cappello però ti ringrazio non è che ho scelto la strada più difficile la scelta la scelta no più difficile diciamo che io sto provando per carità assolutamente di diventare azienda e per me per diventare azienda devi seguire un po' il cuore ci devi mettere quella passione ti hai detto una cosa prima si parla prima di soldi secondo me i soldi arrivano ma devono arrivare assieme dico sempre che non è l'olio nel motore non è il motore però ti posso dire una cosa forse mi sono spiegato male come provo a lavorare o quello per diventare azienda io sono sempre in vacanza quando lavoro non so se sono riuscito a spiegare ti piace quello che fai se lavorassi solo per vedere il bilancio a fine anno forse di sabato non ti venga a trovare mi sono spiegato male vorrei vorrei approfondire anche questa cosa è bello è più facile di quello che sembra quando parlo di soldi parlo di soldi perché perché già anche la fase di progettazione nel realizzare un orologio ha un costo soprattutto se ci si avvale di professionisti esterni vorrei ricordare perché abbiamo approcciato ovviamente la produzione dell'orologio insieme anche io e Francesco bisogna preacquistare le meccaniche sicché preacquistare vuol dire cacciare il soldo prima che il prodotto sia finito io quando intendo di guardare la parte pagare tutto prima è questo non è che dici sei mesi sei mesi di esposizione diciamo di soldi fuori prima di avere i prodotti in mano è per questo che vi dico bisogna per fare un orologio tirar fuori i soldi poi sono sicuro che l'obiettivo di Francesco non è quanto guadagna da questo orologio ma è che questo orologio funzioni e sia costruito in maniera voi lo sapete perché l'avete vista alle fiere Francesco è molto social lui vi mette gli orologi in mano ve le fa vedere ne hanno rubato anche uno che lo sappiamo proprio per la fiducia e la passione che lui mette in questo lavoro sicché non mi riferivo alla tua volontà di fare no ma io perdona interpretare ma io perché purtroppo oggi come oggi la gente da un lato giustamente io dico purtroppo da un altro lato la gente ha bisogno di un ritorno molto veloce quando ero giovane si ragionava a ritorni cioè facevi un'attività e il ritorno pensavi di averlo dopo 5-10 anni oggi come oggi uno imposta un'attività vorrebbe il ritorno l'anno dopo sì 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 per cui allora diventa diventa anche più angossante come cosa in quel senso lo dicevo vabbè comunque il fatto che sia un marchio come si deve come si deve sto imparando lo dimostra il fatto che a catalogo è più di un orologio mentre spesso si tratta di un monorologio quando finisce quello se ne inizia un altro in questo caso abbiamo una piccola collezione di orologi tra i quali in questo anno arriva a 12 modelli il Mark IV quando esce quando ce l'abbiamo il Mark IV adesso sono a posto eh perché perché sono a posto perché ho rifatto rifare le case anche lì anche discorsi scusami fa rifare tutto diciamo che non è l'orologio che si è ringegnerizzato è l'azienda che si è ringegnerizzato non potevo dirti un orologio in cui c'ho questo con l'anze qui di 19 e l'altro con l'anze 19 e mezzo scusa ok c'era una piccola differenza di tolleranza all'interno per cui anche questo desidero uscire con il cinturino in acciaio avvolgente e ovviamente ho bisogno di una misura estremamente precisa ci siamo quasi no? sì adesso io senti in pratica le casse mi sono arrivate le prime 15 la settimana scorsa ora dovrebbero arrivarmi anche le altre i finali me li hanno promessi diciamo diciamo un paio di settimane mi arrivano i finali ieri ho pagato il saldo alla sellita per i movimenti per cui ormai mi ha già detto Francesco che vuole me ne darà uno da provare da testare vuole che lo indosso una settimana minimo minimo una settimana è strapazzato va strapazzato e bisogna tirare fuori tutti i difetti che ha i pregi a lui non gli interessano non gli interessano i difetti è come negli aeroplani negli aeroplani sai come venivano fatte le manutenzioni i cambiamenti quando moriva qualcuno non andava di sotto e allora prima di cercare il responsabile si va a cercare la causa perché si è rotta quel pezzo di muro anche nell'aviazione civile succede così posso dare un consiglio non lo dare a Davide dalla Pieloni succede una tutte le settimane incidenti lui te lo testa me lo testa allora va bene guarda che quella volta lì quella volta lì che te mi hai dato due di questi io uno avrei dovuto darlo a lui provalo una settimana non glielo ho dato fortunatamente perché lui è caduto con lo scooter quel giorno lì e ha grattugiato lo Jungans l'ha grattugiato tutto è ancora in riparazione è ancora in riparazione e cosa gli dico a calamari no ma è caduto tieni guarda come è caduto beh se fosse caduto e funzionava ancora e no mi andava bene da mettere in bacheca facciamo il sud questa collezione cronografi poi sviluppate i vari colori c'hai quattro colori di cronografi più c'hai due panda il verde il blu cinturini in acciaio cinturini in pelle che si possono mettere ovviamente su tutte le casse due tipi di finitura o totalmente satinato o con l'anima centrale lucida che è più bella secondo me però la gente sceglie e poi c'ho i quattro mk4 che sono verde ma un verde particolare ok questo è quello difettato il peggiore venuto fuori vedi come risulta il centro è diverso dall'esterno marrone che tende al prugna sempre con questo tipo di lavoro uno bianco che secondo me sta bene col cinturino in acciaio non col cinturino ed uno nero molto aeronautico ok perché poi ci sarà la possibilità di avere i bracciali anche sull'emm sì esatto più l'anno prossimo esco a luglio vedrai con il gmt mc72 scuola sempre anche quello mc72 allora io per ora non tolgo orologi da catalogo ma li sto aggiungendo ok l'unico che ho tolto perché sono finita avevo dichiarato una serie limitata a 299 pezzi è l'mk3 ok finiti i 299 pezzi non li ho più fatti ok obiettivamente ma era dichiarata serie a 299 pezzi va bene ragazzi quindi direi di chiudere qua abbiamo abbiamo guardato tutta la linea delle novità più che altro tutte le novità che il buon Francesco che la mai ha cercato no ha cercato ha proprio apportato i propri orologi per migliorare la qualità e per migliorare il prodotto finito che poi viene nelle vostre mani questo non significa che chi ha comprato gli orologi finora si trova in mano delle ciofeche erano fatti bene c'era una piccola percentuale di migliorabilità e lui l'ha fatta ha deciso di spendere risorse energie soldi per migliorare il prodotto vero? perfetto io vi ringrazio per essere arrivati fino a qua spero vi sia piaciuto il video la chiacchierata con Francesco Caramai titolare di orologi Caramai che ti toglie dai guai il buon il buon Giacomo che è il titolare della baracchetta che facciamo un po' di pubblicità anche a lui è concessionario di orologi Caramai che almeno cioè difende anche lui ok e io vi ringrazio e vi ricordo degli appuntamenti fissi che come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su YouTube love questo è rock però va? va? Grazie a tutti.